Però ragazzi, che trasferta! Con tutte quelle azioni mi è venuta una fame. Chiediamo un assist alla nostra Astra? Buongiorno da Open All Star, sono Alessandro. Come posso aiutarvi? Vogliamo festeggiare in una buona trattoria. Due o tre passaggi e vi ci porto io. Vi mando le indicazioni sul navigatore. Premete invio, download e andare. Grazie! Belli! Solo con Astra hai un vero assistente personale a tua disposizione sette giorni su sette, ventiquattro ore su ventiquattro. Open Astra con All Star. Oggi inizia una nuova era.